Benvenuti a questa cantata di Natale a Gesù 2022. Per Natale, non soffrire più. La luce di venti lenti. Questa luce è accesa dalla lampana d'olio che si trova nella basilica di Natale a Gesù 2022. Che viene alimentata dall'olio che viene donato da tutte le nazioni di fede liziana affinché non si spenga mai. La luce di venti. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.